Ma che notizia è? Ma che cosa vuol dire? Ma chi vuol dire? E se immaginiamo che la vincina ormai da una settimana si è facciati e risate. Giovani uomini a torso nudo si sollevano il braccio per consentire degli eserciatori di rinunciare direttamente che la vincina non sia il fattore. E uno dei passaggi della selezione E uno dei compagnia della Repubblica Purgolare E uno dei compagnia della Repubblica Purgolare E uno dei compagniani